Ragazzi vi devo parlare di una cosa molto importante, come avete ben saputo l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che mangiare la carne fa male, anzi che mangiare carne trasformata può portare tumori al colon e al retto, per carne trasformata noi intendiamo ad esempio gli insaccati, ma la domanda mia è una, noi napoletani, noi partiamo poi che ci teniamo assai, come cazzo facciamo casatilla? Come se fu casatilla senza insaccata? Cioè non ci vanno i miei parenti per fare le casatilla, il napoletano non ci sta, sono convinto, un napoletano preferisce il tuo cuore, ma il casatilla non lo lascia, per noi è come la pizza margherita senza il sugo, è come la lungomara senza il castello dell'uovo, mi dispiace qua giù, mi dispiace, siamo condannati, addio. Moana Sì Grazie per la visione!